incredibile vinto dell'aquila grazie vinto grazie a tutti grazie a tutti eccoli qua i nuovi campioni olimpici italiani Catarina Banti e Ruggero Dita siamo vinciti a qualcosa di legge si 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 medaglia d'oro della 20 km femminile a Tokyo 2020 lui ci fugga lui ci fugga ci fugga di e Grazie per la visione!